Sì, buongiorno, grazie a Radio Vila Centrale per avermi invitato e saluto tutti i radioascoltatori. Sono l'Avvocato Gennaro D'Agostino della ASRIM ICA di Associazione Liberi Imprenditori Italiani che tutela cittadini e imprese contro abusi di poteri, malaggiustizia. L'iniziativa più relevante che sottolineo è quella di essersi costituiti parte civile di un processo penale a favore di tre imprenditori raggirati da due funzionari in Italia. Le pratiche furono istruite dal nostro Presidente, il Dottor Fuccia Alessandro, a cui si rivolsero questi tre imprenditori. Prima fu promesso volo che sarebbero state accettate, poi furono rigettate, per cui ritornarono delusi dal Presidente e chiese una cosa a fare. Il Presidente disse denunciate, a seguito di quelle querele sono stati rinviati a giudizio i due funzionari invitati, attualmente c'è un processo penale in corso, si è svolta già la prima udienza, in cui è stato ascoltato un maresciano della Guardia di Finanza che ha condotto le indagini e alla prossima sarà ascoltato il nostro Presidente all'inizio di ottobre, nel mese di ottobre, si terrà la prossima udienza, in cui sarà ascoltato il nostro Presidente, il Dottor Fuccia Alessandro. Quindi io mi rivolgo a tutti gli imprenditori in ascolto che hanno problemi di carattere economico, in particolare con il fisco, oppure hanno subito dei raggiri o abusi di potere in genere, di contattarci al 331-8265-363, che è il numero del Presidente, il Dottor Fuccia Alessandro, oppure al fisso 0823-484043 o visitare il sito asdimitalnews.it. Poi io rappresento anche un'altra associazione, la Alionus, l'associazione medico-scientifica a tutela di persone affette anche da gravi patologie. Abbiamo un progetto digitale che comprende una piattaforma web in cui sono stati inseriti i medici specialisti di riferimento e il web Medicine Office, che è un metodo di prenotazione digitale in tempo reale per le visite mediche specialistiche, senza attendere mesi o anni come si aspetta presso le altre. Questo web Medicine Office è stato oggetto di una presentazione da parte nostra ufficiale e qui presso la sede centrale in provincia di Benevito, parteciparono anche alcuni politici della zona, alcuni sindaci della zona e anche un esponente di una delle tante commissioni sanitarie della regione Campania, un esponente molto argomento. Quindi mi rivolgo a tutti che vorrebbero problemi di carattere sanitario, l'ascolto di rivolgersi con fiducia a 331-8265-363, il numero del Presidente, il Dottor Fucci Alessandro, oppure chiamare 0823-484043, 0823-805180, visitare il sito fondazionemedicali.it. Ringrazio Radio Villa Centrale per avermi invitato e saluto tutti i radioascoltatori.